La strega e devi far credere alla gente che è buona. La sento molto vicino a me, Ida, caratterialmente, no? Con il livello di emozioni e quindi mi piace anche tanto come persona. Grazie. Sì, 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 ma certo, sono contentissima. Grazie. E' curioso vedere prima e seconda, seconda Donatella, che sono anche rivali, però ha vinto Ida. Sai che ho visto la famosa foto incriminata, quella del lato B? Lì 10 e l'Ode, hanno ragione, c'è proprio una bella foto. Quella che non sono io però. Non lo sappiamo perché il viso non si vede. 25 anni non li ho, Gianni. Ok. Mi spiace. Ma in Tina, dove sta Tina? No, è... Non è finita? Sto aspettando te. Sto prendendo l'alcassetto. Vuoi salutare, Tina? Saluta, Tina. Saluta, Gianni. Sta prendendo il bicarbonato per digerire. Per digerire cosa? Per digerire il terzo posto perché sperava fossi ultima. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Grazie per la visione!